Io penso che la politica sia più forte e quindi permettetemi di dire che il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico anche su questo piano, sui protocolli di sicurezza che stiamo costruendo è un lavoro molto importante e anche in questo caso permettetemi di usare questa informativa per affermare che il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha già provveduto a consegnare i verbali a chi ne ha fatto richiesta e che continueremo esattamente su questa linea. La trasparenza è stata, per quanto mi riguarda, sin dall'inizio una regola fondamentale che ci siamo dati e la continueremo a considerare una regola e un valore a cui non intendiamo assolutamente rinunciare.